Fred, troppo complicata, no? La prima in campionato, è vero che è sempre un derby, è vero che quando si gioca contro la Domus Bet e Catania gli avversari mettono sempre qualcosa in più, però forse troppa sofferenza. D'accordo, sono d'accordo e già speravamo così questo, perché sempre, come hai detto tu, un derby, la prima è sempre un po' più difficile, quindi cerchiamo di riposare un po' e migliorare per domani. La cattiveria è giusta, forse deve ritrovare anche questo e tranquillità la squadra? Tranquillità io penso che sia la parola giusta. Sappiamo che è una cosa che possiamo migliorare, però siamo anche fiduciosi che abbiamo questa margine da migliorare. Primo step, prima vittoria, è importante per mettere tre punti in classifica, domani Licata, bisogna continuare su questa strada? Sicuro, quello è più importante, possiamo parlare quello che vogliamo, però l'importante è sempre, sono i tre punti che dobbiamo prendere, quindi cerchiamo di fare lo stesso domani, sempre migliorando, cercando di fare più gruppo e arrivare dove vogliamo. Un tiro libero tanto pesante quanto importante, perché in un determinato tipo di momento della partita non era facile, forse, anche metterla dentro. Sì, abbiamo parlato questo e abbiamo sofferto questo anche nell'altro campionato, nella Champions abbiamo sofferto di non aver fatto quelli gol di punizione, quindi penso che la squadra ha capito cosa dobbiamo fare e oggi le punizioni hanno fatto la differenza. Grazie a tutti.